Uno dei floorman dell'Italian Poker Open che comincia stasera è il signor Patrizio Maniaci impegnato nel lavaggio delle stoviglie Patrick che ci prepari? Preparo un'arrabbiata stile aglio olio è buona? è un'arbia olio leggermente modificata è il maglione? potevi toglierlo? no sta a posto stasera anche lui pronto siamo regolari bene Franco Scianna Mea uscito dalla cripta potrebbe coinvolgere anche l'attuale vaccinazione generale grande anche lui pronto ci siamo eh sempre pronto stasera non si sa Bill, Zorn, Berkelè sempre pronto ci siamo dai un saluto che si tratta di una questione così delicata che va affrontata con grande potenza